Una cosa che mi è venuta in mente prima mentre parlavi di questo super computer mi è venuta in mente una frase citata da una grande scienza giovanea come Rudolf Steiner come lo era anche il nostro genio che diceva quando Arimane sarà chiuso nella sua stanza dei super computer pronto a schiacciare il bottone dell'autodistruzione arriverà Michele con la sua schiera a fermargli la mano Sì, quel messaggio lì, otto minuti E un'altra cosa che mi è venuta Certo, la grande battaglia è tra l'arcangelo Michele o Astra Sheran che vuol dire capo santo e Lucifero che è il padre di Satana reso benissimo nel film di Mel Gibson quando Cristo sta andando nella via Crucis c'è la figlia di Celentano poi e Rosita se non ero tutta vestita di nero che c'è in braccio un bambino mostruoso lei è Lucifero e il bambino mostruoso è Satana Un'altra cosa che sono esseri reali Forza dell'ostacolo messe qui dal padre per farci evolvere visto in un'altra chiave Sì e no Allora Certo, la coppia di forze bene e male più o meno luce e ombra la vuole Dio ma non perché la voglia Lui Lui l'ha predisposta nel caso che le sue creature facciano quel tipo di scelta Nel momento che le creature fanno quel tipo di scelta di stare col figlio maledetto Arimane che è Giuda Lui determina questa situazione qui cioè deve mettere quella umanità sotto selezione Ora, il progetto di cui parla quel messaggio extraterrestre io ho detto è la parabola della gramigna, della zizzania perché Cristo dice i servi scoprono che il nemico aveva piantato la zizzania nel campo di grano i servi se ne accorgono, vanno dal padrone e gli dicono padrone abbiamo scoperto che il tuo nemico ha piantato la zizzania in mezzo al grano che facciamo? La estirpiamo? Il padrone dice no perché quando le piantine sono piccole poi io sono figlio di contadini sai le sudate e i calli a tirar fuori la zizzania dalle vigne di babbo dice lasciamole crescere insieme perché la zizzania rimane rasoterra il grano diventa alto quindi tagliamo il grano lo mettiamo nel granaio poi estirpiamo tutta la zizzania e la bruciamo quindi questo periodo, questo processo era necessario da Cristo fino a prima venuta e seconda venuta perché il progetto di Dio per questo mondo è di integrarlo nella grande famiglia cosmica chiamata Regno di Dio in termini biblici ma per entrare nel Regno di Dio che è il Regno degli umani gli umani vivono in modo solidario perché sono una famiglia respirano la stessa aria bevono la stessa acqua mangiano lo stesso cibo sono figli della madre terra tutti indistintamente quindi è necessario un processo di selezione e purificazione perché i cittadini del Regno che non può più fallire come hanno fallito fino ad oggi tutte le civiltà terrestre devono essere persone incorruttibili quindi è necessario che ci sia un processo di maturazione e di crescita dei figli maledetti e dei figli che saranno eletti quando il grano sarà maturo Cristo fa la raccolta fa la mietitura perché se il progetto è il Regno di Dio un Regno non è un Regno se non ci sono gli abitanti voi potete mettere i palazzi più belli le tecnologie più avanzate ma se non c'è nessuno è un Regno vuoto cioè non è un Regno se noi prendiamo tutti i ricchi del mondo i loro soldi i loro diamanti tutte le loro ricchezze da soli in un'isola deserta sono un gruppo di coglioni il potere per antonomasia scaturisce dal dominare il popolo quindi nel male e nel bene ci vuole un popolo ma il popolo del Regno di Dio deve essere un popolo solidario etico di gente che non si corrompe quindi per fare il Regno Cristo aveva bisogno di un numero minimo di persone che è stato pure detto 7.465.006 persone poi c'è un altro risvolto da un punto di vista della struttura planetaria ma non mi voglio dilungare troppo ecco bisognava raggiungere questo numero di esseri irreprensibili che non si sarebbero venduti per nessuna ricchezza o nessun potere o nessun successo al mondo ecco la bella notizia è che questo numero è stato raggiunto eppure superato per questo il male è preoccupato perché l'hanno capito quindi il processo era questo arrivare al numero minimo per fare il Regno con persone solidarie disposte pur di non corrompersi a dare la vita Falcone Borsellino Gandhi Martin Luther King o quel commerciante siciliano che ha denunciato quelli del Pizzo com'è che si chiama adesso mi sfugge il nome eh? ce ne sono grasso ce ne sono vari ecco nel Regno ci va questo tipo di persone gli altri non è che Dio li fa sparire li prende li deporta in un altro luogo e gli fa ricominciare tutta la storia evolutiva purtroppo è lunga dura circa 700 milioni di anni però si chiama seconda morte dice non hai capito che devi fare il bravo bene ti rifaccio fare la scuola ricominci dagli inizi del regno animale ti fai tutta la trafila fino a che il principio evolutivo non ricomincia a essere degno di entrare in un corpo umanoide la cosa brutta terribile è che questi personaggi ricordano di essere stati umani non se lo dimentica quindi magari c'è un ragno che sogna che è con la moglie che la bacia poi va a prostitute si droga poi torna a casa tutto perfetto poi si sveglia ed è un ragno e sa di esserlo a me è capitato ho fatto esperimenti con degli animali gli fai domande e ti rispondono e quando li scopri si vergognano terribilmente scappano dice cavolo mi ha scoperto allora scappano un segno particolare che sono ad esempio se sono cani sono molto 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 amorevoli sono particolarmente amorevoli perché la terribile punizione allora siccome si sono pentiti allora vogliono esprimere l'amore ma se glielo dici tu sei stato umano vero? proverò con i miei cani ho fatto le prove vorrei una sì sì piccola un tuo pensiero sempre su una cosa che ho appreso studiando la scienza dello spirito che all'epoca Adolf Hitler pensava che il Cristo Hitler è una reincarnazione di Giuda pensava che una delle manifestazioni dell'anticristo che il Cristo si fosse si dovesse reincarnare nel popolo ebraico per quello che ha ordinato il suo sterminio non mi vedrete più fino a che non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore non l'hanno ancora detto quindi però lui poi la sua corrente spirituale oscura scoprì che invece il Cristo si stava manifestando da cento anni dal 1879 da quando è iniziata la regenza di Michele si stava manifestando invece sul piano eterico e da qui tutte le forze spirituali che lo stavano controllando si sono spostate per creare Trinity la bomba atomica per distruggere anche l'anello eterico dove si sta manifestando ora il Cristo no non è così volevo una tua opinione in questo molto brevemente nessun tipo di struttura fisica nemmeno la bomba atomica è in grado di lacerare le energie sottili la disarmonia la porta come conseguenza cioè l'arma atomica distrugge l'anima dell'uomo perché lo fa impazzire a causa dell'avvelenamento cioè la struttura fisica riverbera nell'animico e riverbera nello spirituale in realtà Hitler sapeva che stava per incarnarsi Parsifal che era il precursore cioè Elia e quindi lui voleva fare il Reich millenario che è il regno di Satana di mille anni perché Cristo farà il regno di Dio di mille anni che poi ha un significato ben preciso se dobbiamo entrare nei termini della spiegazione che significa ma troppo lungo quindi Hitler voleva fare il regno prima che arrivasse Elia ma non ce l'ha fatta e quando Hitler come strumento ovviamente di quell'entità negativa elevata è stato sconfitto l'anticristo è uscito da lì e ha preso gli americani che hanno portato avanti tutte le logiche di Hitler l'MK Ultra le bombe atomiche il dominio del mondo tutto hanno continuato cioè l'America è il nazismo sotto false spoglie di democrazia un signore molto importante l'ha chiamata la demoniocrazia l'ha chiamata